raga salve a tutti io e mio amico siamo pronti a buttare questi macconi in giù cominciamo che violenza eh diamo la mano qua mettiamo qua c'è fatto due parti mettiamo qua guarda il dibo il dibo nero qua bellissimo mettiamo il dibozzo adesso è una un po' di giù è una canzone ecco vediamo 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 Sì, non c'è una rapida comprensione qua. Non c'è una rapida comprensione qua, non c'è una rapida comprensione qua. 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 6 minuti? 3, quasi 4 Che ne arrivo a 4 e mezzo diciamo? Vistiamo qualche attorno, mettiamo per le spazio C'è qualche altro spazio Vedete? Oh Per 25 Allora Raga Ci vediamo alla prossima